Gli assessori regionali all'ambiente Federica Fratoni e all'agricoltura Marco Remaschi hanno partecipato insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali all'inaugurazione dell'agriturismo Lambure nel verde della montagna Pistoiese nel comune di San Marcello Piteglio. Una struttura speciale destinata alle associazioni toscane che vogliono aiutare le persone con sindrome di Down e autismo nei loro percorsi verso l'autonomia, gestito da due giovani imprenditori che hanno partecipato al bando Pacchetto Giovani della Regione inserito nel programma di sviluppo rurale 2014-2020. Veramente una bellissima scommessa, intanto bisogna ringraziare la cassa mutua degli ex dipendenti della Banca Toscana e comunque i gestori, i ragazzi giovani che animeranno questo posto che coniugherà appunto la produzione agrituristica straordinaria di questi territori con la capacità di accogliere e di valorizzare ulteriormente la nostra montagna anche nel senso appunto della sostenibilità e dell'accessibilità. L'azienda, di proprietà della cassa mutua dipendenti dell'ex Banca Toscana, è dotata di sette camere doppie con bagno, cucina e sala da pranzo e mette insieme sociale e agricoltura. Valorizzazione di un'area, di un territorio montano, recupero di un immobile ma al tempo stesso la possibilità a ragazzi che hanno avuto diciamo nella vita più sfortuna di altri è di poter essere diciamo così utilizzati in alcuni percorsi, di poter vivere diciamo in un ambiente bello come questo con la presenza di animali o che questo gli dà sicuramente anche un sollievo e una miglior prospettiva di vita. Grazie. 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 Grazie.